In una lettera inviata al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della conferenza episcopale italiana, Monsignor Sviatlov Shevchuk, arcivescovo maggiore della chiesa greco-cattolica, sottolinea che l'Ucraina sta difendendo i valori europei al costo del sangue dei propri figli e che oggi la sua nazione rischia di essere trasformata in un campo di morte. Sviatlov Shevchuk avrebbe dovuto partecipare all'incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo a Firenze, ma è rimasto a Kiev, a fianco del suo popolo. La lettera, letta dal cardinale Bassetti e rivolta a tutti i presenti, ricorda la tensione che si è aggravata perché il governo russo ha violato la sovranità e l'integrità territoriale del nostro paese. Si legge nella lettera, laddove comunque da otto anni l'Ucraina è vittima innocente di una guerra ibrida condotta dalla Federazione Russa, che ormai non può più essere definita come crisi ucraina o conflitto, perché si tratta di un vero attacco all'Europa, alla sicurezza, al futuro dell'intero continente europeo. L'arcivescovo denuncia che l'Europa ha preso l'impegno di difendere la pace e la stabilità come i valori più preziosi, mentre, purtroppo, proprio in questi giorni siamo testimoni del ripristino del diritto del più forte, e così l'Ucraina difende i valori europei al prezzo del sangue dei propri figli. Svevchuk sottolinea che in questi otto anni si contano tra 42 e 44 mila vittime, di cui 13 morti e 34 mila feriti, nonché circa due milioni di rifugiati che lasciano le zone di conflitto, e sottolinea che l'Ucraina vuole la pace e che il governo fa di tutto per avviare i negoziati, ma allo stesso tempo il popolo grida all'umanità intera, aiutatici a difendere la pace in Ucraina e in Europa.